In ogni calzetta che si rispetti abbiamo sempre trovato almeno un pezzetto di carbone Che vi devo dire, in fondo in fondo a me piaceva tanto Avete mai pensato di farlo in casa? Vi spiegherò come Seguite bene il video e tutti i passaggi e trucchetti che vi darò E non vi resterà molto difficile Ma ora iniziamo Ricordate di iscrivervi al canale Cominciamo preparando la gaccia reale Quindi una parte di albumi a temperatura ambiente e zucchero a velo Mescoliamo energicamente con una fusta E poi dividiamola ed aggiungiamo nella ciotolina anche un pochino di alco oppure vodka Colorante alimentare nero Dopodiché in una pentola mettiamo lo zucchero semolato e l'acqua Fin a coprirlo e via a cuocere sul fuoco basso Una parte della ghiaccia io l'ho colorata anche con del colorante verde Proprio per ottenere il carbone colorato che tanto piace ai bambini E vi consiglio come sempre i coloranti in gel Nel frattempo il nostro zucchero inizierà a bollire e quando avrà raggiunto una consistenza un po' più cremosa e schiumosa E quindi un colore bruno Inizia ad aggiungere a filo la ghiaccia reale e velocemente con una frusta inizia a mescolare Mantenendo la pentola sul fuoco minimo noterai che lo zucchero inizierà a gonfiarsi e quindi a raddoppiare di volume Questo avviene grazie ad una reazione chimica che c'è tra gli albumi e l'alcol Io l'ho fatto così senza termometro da cucina Però più o meno la temperatura si aggira intorno ai 145 gradi Prepara una stampa e rivestilo con della carta forno e versasci dentro il composto zuccheroso Solidificherà entro pochissimo tempo e basterà dopo romperlo in tanti piccoli pezzettini Questa preparazione in pasticceria si chiama zucchero roccioso Per completare la calzetta poi inizia a formare tanti biscotti e decorali con la ghiaccia reale Magari quella che ti è avanzata nella preparazione appunto del carbone E quando sarà tutto pronto potrai iniziare a riempire la tua calzetta Seguimi anche sugli altri social perché ti spiegherò come fare queste qui con la carta trasparente Ed inoltre fammi sapere se la mia ricetta ti è piaciuta E di che colore preparerai il tuo Ci vediamo qui lunedì prossimo con il nuovo video Ma ti aspetto su Instagram e TikTok per conoscerci meglio